Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Oggi video molto interessante perché andiamo a confrontare la prima versione ufficiale del gioco lanciata 11 mesi fa con la versione attuale. Iniziamo da quella attuale, quindi iniziamo semplicemente con un login all'interno del mio profilo, vi faccio vedere qualche cosetta di scoperto e poi andiamo a vedere un video che risale a 11 mesi fa. Ragazzi, la differenza è clamorosa. Attivate qua, mi raccomando, il click per vedere tutti i video della playlist ufficiale italiana di Monopoly Go con tutti i miei tutorial personali. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché siamo in direzione 22K, quindi se vuoi partecipare alla Family del Vapor è arrivato il tuo momento, iscriviti ora. Ti ricordo che tutte le sere esce un video shorts, in concomitanza esce anche su TikTok, quindi seguimi su TikTok e se vuoi avere la mia amicizia su Monopoly Go non ti basterà nient'altro che cliccare il link qua sotto. Se vuoi scambiare gli adesivi con me, ti ricordo inoltre che puoi semplicemente partecipare alle live. Orario delle live lo troverai su Instagram. Questo è il mio profilo attualmente di Monopoly Go. 3.351.000 le monete che ho da parte. Ci sono un po' di cosette da risolvere. Sinceramente non mi privo, le vado velocemente a risolvere. Siamo addirittura per anche il livello 600, quindi in generale comunque siamo in una buona fase di crescita del mio profilo. Devo dire abbastanza eccellente. Abbiamo però pochi dadi, dadi sono veramente pochi, si limitano a 53. Naturalmente ragazzi è dovuto al fatto che io ho giocato di meno a Monopoly Go. E comunque il lancio che avete visto dall'ultimo video, dal penultimo video di Monopoly Go, è dovuto al fatto che un giorno mi sono messo lì, ho scambiato qualche adesivo, molti di voi mi hanno aiutato. Ed in particolare estendo l'aiuto anche all'interno di questo video. Adesso vi faccio vedere gli adesivi di cui ho necessità. Infatti andando su Album vedrete che ho alcuni adesivi di cui ho necessità. Quindi luoghi e fotografie, oltre la duna, coccinella carina, luce accecante, cucciolo di Pegaso, giganti gentili, mamma mammut c'era una volta, dal greco, lì, la lucertola, uno sguardo da vicino, caimano, una mano e così via. Andando avanti ragazzi ce ne sono un sacco. Comunque mettete il fermo immagine se volete vedere effettivamente quali mi mancano. Per mandarli ho fatto il tutorial, in linea di massima comunque basta andare sull'album, quando avete un doppione schiacci sopra e puoi inviarlo tranquillamente. E gratuitamente ad un amico. Quindi mi date una grande grande mano, vi avviso già. Prima di andare a vedere com'è il vecchio Monopoly Go, quindi l'old, andiamo a farci un attimo qualche partitina all'interno del Peggy, quindi all'interno di questa slot gratuita all'interno del gioco. Mi raccomando ragazzi non giocate alle slot, ma questa ragazzi ci permette di ottenere un po' di denaro, quindi magari la facciamo con calmetta. Infatti guarda qua, tatatan, 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 molto molto bene. Ci prendiamo le nostre cosette di qua, ci facciamo le nostre cose, 10 da di di su, 10 da di di giù, 3 milioni e 82 anche, quindi comunque grande, grande, grandi risultati derivanti da questo. Peggy, in particolare andiamo a sbloccare i 250 dadi del fatto che eravamo molto molto vicini allo sblocco, quindi 413 dadi da parte, sicuramente abbiamo delle cose che possiamo andare a migliorare, quindi direi che ci teniamo modici con le spese e vediamo un attimo poi quello che viene fuori. Direi che potrebbe essere anche arrivato il momento di Monopoly Go, quindi adesso ci mettiamo in questa schermata qua, ci trasferiamo automaticamente su un video YouTube che ho trovato, iOS Touch Gameplay, ringraziamo subito e vediamo subito le prime differenze. Il tabellone del gioco in realtà è sostanzialmente simile, non andrei a concentrarmi troppo su alcune cose, ma mi sembra abbastanza simile, se non che i colori sono leggermente cambiati. Andando nei dettagli, si può vedere come è il gioco laggi, ma in realtà penso che sia dovuto al fatto che c'erano altre problematiche. Si entra in stazione, naturalmente con una rapina, vedete che non ci sono le animazioni, era un po' diverso, le monete sembrano buone, ma è sempre abbastanza da rivedere, alcune cose sono state cambiate, c'erano molte meno offerte, si può vedere benissimo che non c'era tutto il listone di offerte, ma quello è stato lanciato poi con l'uscita del gioco, quindi tutta la parte delle offerte, degli eventi non c'era, non c'era neanche la parte del negozio, quelli sono stati tutti dei rework dovuti al fatto che essendo poi lanciato un gioco a livello globale, capite bene che era cambiato molto. Qua realmente pubblicità di Monopoli così a caso, quindi per favore muoviamoci quelli di Monopoli, guarda come si sponsorizzano come dei caniaci, abbastanza infamuzzi. qua nel mentre si vedono gli scudi, gli scudi, il sistema scudo c'era sempre, c'erano gli imprevisti, la mappa mi sembra in realtà abbastanza simile, non vedo grandi differenze a livello proprio di mappa, quindi a livello di caselle, mi sembra veramente abbastanza simile, il patrimonio netto c'era, l'unica cosa che veramente cambia era il reparto offerte, non so se fa vedere anche all'interno degli adesivi, perché non so se quel meccanismo c'era, c'era già il meccanismo di skip del dado, quelle cose lì, vedi sale il patrimonio netto, c'era stato fatto un rework probabilmente degli album, mi sembra di vedere gli album leggermente diversi, proprio il colore, vedete che i nostri sono verdi, qua invece erano blu, gli adesivi in realtà c'erano sempre naturalmente cambiati, perché come sapete cambiano in base alla stagione, ogni tot cambiano totalmente gli adesivi, le case venivano deployate, in realtà ragazzi il gioco alla fine è abbastanza simile, vedete che qua compaiono le prime offerte, c'è lo sticker tips, quindi anche all'interno del mondo degli adesivi, poi era abbastanza simile, forse cambia il fatto che qua in basso ci fosse questa caselletta con scritto 0 su 100, attualmente schiacci sopra sulla cassetta e ti dice tutte le varie tipologie di casse, che puoi andare a sbloccare in cambio di stelle, non era propriamente così, vi ripeto gli adesivi li vedete diversi, cambiano ogni mese, quindi tranquilli, qua nelle schede cliccabili potete trovare il video dove vi faccio vedere la reaction al nuovo pass, e direi che possiamo rientrare all'interno del nostro Monopoly per fare le ultime cose che ci servono per finire la sessione giornaliera del gioco, naturalmente fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, io sinceramente qualche tirello così giusto per la gasa me lo farei, in modo tale che se c'è qualche soldino che c'è da raccattare, quelle cose lì all'attimo al volo le vado a prendere, più che altro non so se avete visto ma ero scoperto di scudi, quindi mi è particolarmente utile andare un attimo su degli scudi, qua comunque album preso, quindi vediamo se trovo qualcosa che può essermi utile da questo album, dubito fortemente di trovare qualcosa, infatti come al solito avendo tante adesive adesso diventa sempre più difficile poi quando man mano che uno va avanti a trovare oggetti nuovi, naturalmente in caso di deploy su degli scudi sarebbe molto molto interessante, perché ok, perfetto l'ho chiamato, gruppo di proprietà scudi a presi, in modo tale che se qualcuno mi attacca in questo frangente non subisco grandi danni, questo è la gran giocata di averli scudi, qua naturalmente un pacchetto adesivi penoso, ma ormai siete tutti abituati alla mia schifezza che ottengo quotidianamente all'interno di Monopoly Go, don't attack me classicone, vabbè ci dà i più tre, ci dà le cose, abbiamo un po' di soldini da parte, ma quelle sono cose che andremo a vedere poi nel dettaglio più avanti. Direi che il video di oggi termina qua, io spero che vi siete divertiti, spero come al solito che il video vi sia piaciuto, se fosse così lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo domani alle 14, ed in particolare ti ricordo che se qualcuno di voi ha un po' di curiosità di tutto, trovate qua sotto la sezione commenti nella quale ci possiamo confrontare, io lo sapete tutti, sono molto attivo nell'andare proprio a darvi delle indicazioni nei commenti, lascio i cuoricini alle cose. Noi ci vediamo domani, ciao belli, ciao a tutti.